Sono dieci i neolaureati valtellinese che nel pomeriggio di ieri hanno ottenuto le borse di studio, che ogni anno il BIM stanzi a favore dei ragazzi che hanno deciso di investire non solo sul loro futuro, ma anche sul nostro territorio. Ad ottenere il riconoscimento da 1.250 euro per la laurea triennale sono stati Silvia Angelini, Vera Capelli, Matteo Compagnoni, Anna Rocca, Andrea Terzaghi, mentre altri sei giovani hanno ricevuto 1.750 euro per quella magistrale, ovvero Nicola Bergomi, Alessia Compagnoni, Stefano Portovenero e Elena Rossati ed Alessandro Luffoni. Tantissimi gli argomenti trattati dagli studenti, dall'agricoltura al turismo e dall'economia alla storia, storia che è stata trattata nella tesi di laurea di Silvia Angelini, che ha ripercorso l'alluvione in Valtellina comparando gli articoli della stampa nazionale a quella locale. Ho scelto di raccontare l'alluvione in Valtellina che non ho vissuto in diretta, ma mi è sempre stata raccontata, anche perché i miei nonni paterni sono di Tartan, quindi fin da piccola mi è stato raccontato uno degli eventi più luttuosi dell'alluvione. Si è parlato invece di ambiente nel progetto di Alessa Compagnoni, laureata in turismo, territorio e sviluppo locale, e di turismo in quella di Matteo Compagnoni, laureato in economia delle imprese e dei mercati. Nella mia tesi di laurea magistrale ho elaborato un piano di comunicazione, di social media marketing per il settore Lombardo e del Parco Nazionale dello Stelvio, in particolare focalizzato sul tecnico di storytelling, quindi legato alla narrazione del territorio e ai social network, quindi in particolare a Instagram e contenuti visuali. Il mio elaborato consisteva in un'analisi turistica nell'ultimo triennio del 2012-2014 in Alta Valtellina, quindi nelle nostre zone, Borneo, Livigno e Santa Caterina. Ho fatto dei test statistici inerenti appunto a questa zona. Tanta soddisfazione per questi ragazzi che hanno visto impagati i loro sacrifici, ma anche per il presidente del BIM, Carla Cioccarelli, che ha ricordato come il contributo del BIM sia solo un piccolo incentivo per gratificare l'impegno di questi giovani. Il premio più che l'aspetto economico è stato un riconoscimento che questa valle ha voluto dare a loro perché si sono applicati nello studio e l'augurio da parte di tutti noi è proprio che possano trovare in questa terra in cui loro hanno creduto e in cui hanno effettuato questi studi opportunità di lavoro consoni alla loro preparazione e che la sfida che tutti noi stiamo giocandoci legata alla macro regione alpina e alle difficoltà possa veramente, anche con l'aiuto di questi giovani, con le loro competenze, anche veramente si possa vincere questa scommessa e che quindi noi, gente di montagna, si possa continuare a vivere e trovare occupazione in montagna.